Oggi vi parlo di 5 cose di cui tutti i fotografi hanno un po' paura quando cominciano, per cui mettetevi comodi perché molti di voi si ritroveranno in questa descrizione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da diversi anni. Vi assicuro che quando ho cominciato a fare fotografia avevo paura di una miriade incredibile di cose. Avevo paura di danneggiare la strumentazione, avevo paura di postare qualcosa che non andava bene. Insomma, questo è un mondo complicato e purtroppo è un mondo dove se non hai frequentato un istituto professionale come l'Accademia Italiana di Fotografia nessuno ti spiega come si fanno certe cose. Questo è quello che io cerco di fare sul mio canale, portarvi un po' di esperienza di cose che ho capito nel corso di anni in cui mi occupo prevalentemente di questo e questo è il motivo per cui invito tutti quanti a iscriversi subito cliccando il bottone qui sotto, lasciate anche un like a questo contenuto e condividetelo con un amico fotografo se reputate che possa essergli d'aiuto. A questo punto io direi cominciamo con le cose di cui tutti quanti all'inizio abbiamo paura tenete conto che è un elenco randomico quindi non va in ordine di importanza e anzi forse le cose più interessanti le ho tenute alla fine. La prima cosa che mi viene in mente di cui sicuramente all'inizio avevo paura era piegare un backdrop di quelli collassabili oppure un pannello riflettore di quelli collassabili. Stiamo parlando di quei pannelli prevalentemente in stoffa o in tessuto con una barra metallica che va a tenerli tesi per cui noi dobbiamo andare a piegarli su loro stessi per riporli comodamente all'interno delle loro borse. Si tratta di un movimento non difficile da fare però all'inizio io vi assicuro che tutti quanti abbiamo un po' paura perché abbiamo paura di romperlo abbiamo paura di fare il movimento sbagliato e quindi di danneggiare o di piegare la barra metallica in maniera tale poi che non sia più possibile utilizzarlo correttamente. Questa è una cosa di cui io avevo paurissima infatti ricordo che mi sono guardato 100 tutorial per capire bene come si piegava in un'epoca in cui i tutorial non erano tanti quindi non era facile trovarne uno attendibile su cui basarsi per poi fare correttamente i movimenti e questa era una cosa di cui sicuramente non solo io ma tanti altri avevamo paura all'inizio ed è una cosa che spesso ti dimentichi perché poi non lo fai mai quindi quando ne tiri fuori uno ritorna quel vecchio spauracchio e dici oh porca miseria io l'ho tirato fuori adesso come si rimette via devo ricordarmi il movimento io ormai me lo ricordo fatemi sapere in un commento se avete mai avuto lo stesso problema. Iniziamo ora con qualcosa di un pochino più serio il terrore atavico di buttare via le fotografie dalla scheda di memoria anche dopo che le abbiamo scaricate dal computer questa è una cosa per cui ogni tanto ancora mi sveglio di notte dico ma ma io le ho scaricate le foto vero no scherzo non mi sveglio più di notte però avete capito il concetto quando abbiamo fatto delle fotografie siamo tornati a casa le abbiamo scaricate sul computer magari abbiamo anche fatto tutto a dovere nel senso che le abbiamo messe sul computer su un hard disk e in cloud quindi abbiamo quattro copie a questo punto uno dice vabbè dalla scheda sd posso anche buttarle le fotografie tanto le ho scaricate eppure c'è sempre quell'attimo di esitazione che uno dice ma le ho scaricate tutte correttamente vero non è che poi perché poi capita che dici cavolo il cliente ti dice che manca quella foto che abbiamo fatto porca miseria manca io ormai le ho cancellate cosa devo fare devo comprare uno di quei programmini di recupero dati dalla sd per vedere se ho dimenticato di scaricare qualcosa insomma sono brutti momenti secondo me ci si fa il callo solamente con l'abitudine solamente avendo una routine consolidata quindi io torno a casa o in studio o in ufficio quello che è attacco scarico tutto e devo essere sicuro di me stesso devo essere sicuro di aver fatto il movimento giusto di aver scaricato l'intero bundle una volta che abbiamo l'abitudine consolidata questa paura va via da sola perché a quel punto sappiamo che abbiamo lavorato nel modo giusto e possiamo cancellare tutto quanto aumentiamo l'ordine di serietà dei nostri timori la pulizia del sensore ho lavorato di recente a un video proprio su questo tema non sono sicuro se l'abbiate già visto oppure no in caso vi invito ad andare sul canale per recuperarvelo così come tanti altri contenuti in cui parlo di pulizia della strumentazione il sensore è una delle parti più delicate della nostra fotocamera e tutti quanti sappiamo per terrorismo psicologico praticato probabilmente anche da chi effettivamente elargisce servizi di pulizia noi tutti sappiamo che il sensore è una parte delicata e che è possibile danneggiarlo andando a pulirlo ora secondo me si è un po' esagerato in anni passati c'era così tanta pressione su questo aspetto per dire attenti ragazzi che rovinate il sensore ok ci sta è giusto sapere che se andate lì con lo spazzolino da denti probabilmente fate danni però esistono dei sistemi con cui è semplicissimo pulire il sensore e una volta che qualcuno che è capace ve l'ha fatto vedere fisicamente vi date una pacca sulla fronte dite cavolo non spenderò mai più 120 euro per farmelo fare spenderò 7 euro per un kit di pulizia su amazon e me lo farò da solo per il resto della vita però questa è una delle cose che appunto finché qualcuno non ve lo fa vedere non vi tranquillizza è una cosa su cui è lecito avere un po di timore io stesso ce l'ho sempre avuto mi è successo una volta in particolare diversi anni fa che avevo un sensore che era conciato da sbatter via non era neanche colpa mia perché era una macchina che avevo preso di seconda mano una delle poche cose che ho preso di seconda mano in vita mia è un bel momento mi sono deciso mi sono detto basta sono stufo di avere la polvere su tutte le fotografie la polvere i chicchi di polvere nel cielo basta questa situazione è insostenibile adesso lo puliamo un paio di volte ero andato in assistenza a farmelo pulire ma in un negozio di cui posso anche parlare male perché tanto ha chiuso però non mi ricordo il nome quindi non posso parlarne male peccato però mi ricordo che ero andato in questo negozio e mi avevano chiesto una cifra assurda mi avevano chiesto tipo 70 euro per davanti a me in mia presenza aprire la macchina e soffiare dentro con lo spruzzino ecco fatto 70 euro porco cane con il risultato oltretutto che l'avevano anche fatto male per cui la polvere sul sensore era rimasta ma in piume era finita della polvere anche sullo specchio ovviamente reduce da un'esperienza come questa ho detto io lì non ci torno e infatti ha chiuso così impara e me lo sono fatto da solo per la prima volta seguendo altri tutorial su youtube in cui si spiegava semplicemente come fare devo dire pennellata sensore pulito tutto fatto perfettamente pennello monouso buttato e tutto a posto tutto perfetto tutto preciso senza danni ovviamente sono stato molto attento molto cauto non ho calcato non ho fatto stupidate però è una cosa che si fa è una cosa su cui è lecito secondo me che rimanga un po di timore perché effettivamente se abbiamo la mano che trema per il timore o se o se stiamo sudando dalla paura e cade la goccia di sudore dentro insomma il danno lo possiamo sempre fare quindi è bene comunque farci molta attenzione arriviamo a qualcosa che forse verte un pochettino di più sull'ambito professionale della fotografia ma può capitare a chiunque in realtà ed è chiedere un compenso per il nostro lavoro dico che può capitare a chiunque perché io credo che tutti i fotografi professionisti là fuori siano stati a un certo punto della loro vita fotografi hobbisti cioè ci si ritrova con una fotocamera in mano si comincia a pensare di essere bravi a fare quella cosa e si comincia a pensare di poterla convertire in una professione credo che siano pochi quelli che dicono io da domani farò il fotografo quindi adesso mi compro una macchina fotografica perché da domani pum 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 devo scattare devo fatturare credo che sia molto più frequente che si parta da una passione da un interesse genuino per il per il mezzo o comunque per il risultato quindi a tutti quanti capita di essere prima amatori solo ad alcuni capita di essere professionisti esiste un'ampia zona di grigio nel senso che succede molto spesso che clienti sia aziende sia privati chiedano a dei perfetti hobbisti dei perfetti neofiti volete farmi voi questo lavoro così non devo dare un sacco di soldi a quell'antipatico di ferrari me lo fate voi e come viene viene succede succede spesso lo so io che succede perché è successo a me quando io ero neofita avevo appena cominciato era pieno di amici anche piccole attività che siccome ci conoscevamo mi dicevano senti ma tu hai cominciato a far sta roba che metti le foto su instagram che fai tutte ste robe strane hai voglia di farci due foto anche a noi ti diamo in cambio cioè facciamo uno scambio merci ti diamo una fetta di pizza in cambio succede uno dei grandi timori che c'erano all'epoca ma che sono sicuro ci sono ancora di più oggi visto che i soldi in questo paese sono sempre di meno è quello di chiedere un compenso e questo timore secondo me si affronta solamente con lo studio e con la consapevolezza del valore di quello che stiamo facendo ovviamente se abbiamo appena iniziato e ci chiamano a dire dai facciamo un evento in negozio viene la zia ernesta vengono altri due ci fai due foto così a caso da mettere poi su facebook una roba da boomer tra un video di gattini e l'altro compariranno le foto di questo evento e da qualche parte avremo messo l'odiosa dicitura grazie per le bellissime foto che è il marchio del fatto che non ci hanno pagato io quando vedo scritto grazie per le bellissime foto ok foto gratis perché quando il cliente scrive così vuol dire che non ci ha pagato e quello è il ringraziamento è il pagamento che ci sta dando questa è una cosa oscena secondo me io quando quando vedo quella dicitura sulle mie foto io scrivo dico leva quella roba perché tu mi hai pagato e quindi non mi devi citare soprattutto non mi devi citare come si cita lo studentello che ti ha fatto il favore quindi quella roba leva la falla sparire per favore grazie dobbiamo però arrivare a chiedere un compenso per queste cose invece di quella dicitura oscena e svilente e mi rendo conto che è una delle cose più difficili perché soprattutto se abbiamo appena cominciato un po abbiamo la sindrome dell'impostore quindi siamo pienamente consapevoli che è la terza volta che usciamo con la reflex in vita nostra quindi che ci diano dei soldi per fare una cosa che non sappiamo fare sindrome dell'impostore è pienamente giustificata anche però arriva un bel momento in cui dobbiamo fare almeno due considerazioni la prima il mio tempo ha comunque un valore e sto comunque elargendo un servizio poi se non sono capace a un certo punto è anche colpa di chi me lo chiede cioè nel momento in cui mi chiedono una prestazione sanno benissimo che non lo faccio di mestiere sanno perfettamente che il livello del lavoro che io consegnerò sarà di un certo tipo a questo punto è lecito che io comunque chieda una retribuzione per il tempo che sto dedicando a questo progetto è una cosa difficile da fare ovviamente questa cifra aumenta all'aumentare della nostra esperienza perché all'inizio siamo degli scarponi abbiamo timore anche solo a chiedere una fetta di pizza in cambio e ci sentiamo dei miracolati per il fatto che ci abbiano chiesto di fare questa cosa però vi assicuro che all'ottantanovesima volta che ci pagano con una fetta di pizza torniamo a casa e ci girano anche un po le scatole perché ci diciamo cavolo io comunque ho investito mezza giornata a fargli le foto adesso investo mezza giornata a fargli la post produzione poi ci sarà un'altra mezza giornata di modifiche e ti girano le scatole e lì ti deve scattare questo qualcosa per cui dici sì va bene però la prossima volta mi dai 100 euro per l'uscita e 100 euro se vuoi delle modifiche e vedete che la musica cambia perché già a questo punto vi daranno 100 euro ma le modifiche non ci saranno più come per magia gli andranno tutte bene perché non hanno voglia di darvi i successivi 100 euro e questa è una lezione importante ringraziatemi pure nei commenti benissimo ma siamo arrivati all'ultimo punto un timore che questo ve lo assicuro non ci abbandona mai ed è il timore di uscire senza la fotocamera che è una sorta di fomo fear of missing out quindi la paura di starci perdendo qualcosa che c'è sui social sapete quando vediamo sui social che un nostro amico è un evento fighissimo e io non ci sono mi sto perdendo ecco la stessa cosa più o meno la stessa cosa con modalità lievemente diverse succede a noi fotografi quando usciamo senza la macchina fotografica io ogni volta che esco di casa senza la macchina fotografica c'ho sempre qui dietro un brividino e se succede qualcosa di bello e se c'è un tramonto e se incontro qualcuno magari fare una foto il personaggio famoso piuttosto che niente non c'è niente da fare io esco molto più spesso senza la fotocamera che con ho imparato a uscire senza perché è una cosa vi assicuro si deve imparare a uscire senza la fotocamera perché all'inizio quando cominci te la porti anche al bagno e per degli ottimi motivi nel senso che stai esercitando ti stai pensando guardi il mondo con occhi diversi ogni tanto tiri fuori la macchina ci guardi dentro no ma questa non mi piace non la faccio quest'altra invece bella la faccio stai imparando e per imparare te la porti letteralmente ovunque te la porti ai colloqui di lavoro te la porti dappertutto un bel momento io ho capito che le foto che facevo con una preparazione quindi le foto che facevo quando avevo un team quando andavamo in una location affittata piuttosto che quando scalavamo una montagna per fare le foto vicino ad un antico castello erano molto meglio e di valore molto superiore rispetto a quando fotografavo un piccione in piazza duomo in piedi su un monumento il valore era nettamente diverso quindi per quanto io abbia sempre la paura tavica di uscire senza la macchina fotografica perché magari oggi ci sarà il più bel tramonto degli ultimi 600 anni io magari esco senza la macchina fotografica quindi non riuscirò a farlo questo timore c'è sempre e poi puntualmente ogni tanto capita ogni tanto sono in un posto molto complesso con gli alberi che mi coprono tutta la scena guardo su e dico porca miseria questo era il più bel tramonto degli ultimi sei mesi e io non sto riuscendo a fotografarlo neanche con questa trappola maledetta qui perché ci sono gli alberi sopra e lì però mi rassegno ormai perché se se non ci riuscivo con questo non ci riuscivo neanche con la macchina fotografica quindi diciamo che per una volta lo smartphone mi dà una sicurezza in più che quantomeno la foto per instagram riesco sempre a farla e magari anche la foto da vendere sul microstock si riesce sempre a farlo ormai abbiamo il cellulare sempre in tasca quindi da quel punto di vista quella è un po una sicurezza in più certo se mi capita una foto veramente veramente bella e ho solo lo smartphone e ne ho parlato in un video che è già uscito qualche settimana fa ormai credo andatevelo a recuperare mi girano le scatole a elica in una maniera incredibile perché poteva essere una foto bellissima che facevo e che mi mettevo a portfolio invece diventa una roba che sbatto su instagram e tanti saluti perché non ci posso fare nient'altro con una foto fatta col telefono ovviamente è seccante però dobbiamo anche renderci conto che se siamo fotografi professionisti è un conto e siamo in giro con la strumentazione è un conto ma se siamo invitati alle nozze d'oro della zia ernesta non possiamo andare con cento tracol a quel punto siamo invitati andiamo senza niente perché c'è un altro fotografo e oggi sono cavoli suoi c'è un altro fotografo che sta fotografando le nozze d'oro della zia ernesta con zio vittorio e quindi noi non dobbiamo fare niente siamo lì e non dobbiamo né dare fastidio al fotografo che è pagato né stare lì con mille accrocchi a fare cose stiamo lì ci godiamo il rinfresco devo dire peraltro che la zia ernesta in fatto di catering ha un ottimo gusto quindi il vino sarà eccezionale tartine saranno meravigliose il cibo non lascerà certo delusi quindi ci godiamo il momento e la macchina fotografica la lasciamo serenamente a casa queste sono tutte cose di cui ho avuto paura in passato e certe volte mi torna fatemi sapere in un commento se ne condividete qualcuna o se ne avete delle altre potevo farlo di 9 ore questo video con tutte le cose di cui un fotografo può avere paura ma ne ho selezionate alcune se questo contenuto vi è piaciuto fatemelo sapere magari faremo un capitolo 2 e perché no anche un 3 4 e 5 signori io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo sul mio canale e vi do appuntamento al prossimo video ciao